Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video, oggi vedremo 5 errori che normalmente vengono fatti sull'allenamento. Ok, come il video precedente, anche questo video è stato basato sul Q&A che faccio su Instagram, quindi sul box domande, e le domande principali che mi vengono fatte. Ho, diciamo, inucleato 5 errori che vedo abbastanza comuni dal punto di vista di mindset in generale delle persone d'approccio all'allenamento. Il primo in assoluto è non ascoltarsi, ossia siamo fissati molto su range di volume, su esercizi che devono essere fatti perché sono i migliori, su range di ripetizioni ideali, su numero di set, eccetera, eccetera. Però realmente poche persone in tutto questo scenario riescono a utilizzare tutti questi numeri che io per primo vado a dare, quindi sono anche colpevole, per utilizzarli per quel che sono. Sono delle cifre indicative, vi servono per capire, perché se io vi dico che in un allenamento di gambe di media ci sono 10-14 serie allenanti e voi fate 35 serie di gambe, c'è qualcosa che non va. O le contate in maniera diversa, quindi contate anche le serie di avvicinamento, eccetera, o le serie di accumulo di fatica, che ci può stare benissimo, magari stiamo facendo esattamente lo stesso allenamento, oppure non riuscite a creare una buona intensità. Se vi dico che la frequenza ideale normalmente va dalle 4-5 volte per gli avanzati e 5-6 per gli intermedi che hanno più capacità di recupero in realtà perché l'effort che riescono a esprimere è un po' inferiore e voi vi state allenando 7 su 7 tutti i giorni da non so quanto tempo, allora evidentemente non vi state esprimendo abbastanza. Ma di nuovo sono tutte cifre piuttosto indicative che servono più o meno a farvi capire se, a mettere in dubbio quello che state facendo. Perché magari vi state allenando 7 su 7, mettete in dubbio l'intensità, però concretamente vi allenate con altre persone, vi fate allenare altri preparatori e vi confermano che vi state allenando con alta intensità e dite, porca vacca, sono un fenomeno naturale e ci può stare, va benissimo. Ci sono sempre le eccezioni, fanno parte del concetto di regola, se vogliamo. Però sono per l'appunto spunti. Il mio consiglio è quello di imparare ad ascoltarvi. Questa è una cosa che si è persa negli anni, ne abbiamo parlato benissimo nel podcast fatto con Gabriele Andrulli riguardo alla sua esperienza con Dorian Yates. Negli anni si è persa la sintonia e il percepirsi in allenamento. Di quante serie ho bisogno? Ho questo esercizio, so quali stimoli voglio dare e di quante serie ho bisogno. Ho fatto una serie, ho fatto due serie, mi bastano? Sono riuscito a dare questo stimolo? Sì, no, forse. Ecco, la maggior parte delle persone queste domande non se le fa nemmeno. Non solo non è in grado di dare un'esposta, ma non se le fa nemmeno, ma sa che deve dare tot serie perché ce l'ha scritto, perché ha fatto i calcoli, perché quello è il volume, eccetera, e cerca di andare. Questo ci porta anche a non riuscire a capire neanche qual è l'intensità che realmente potremmo dare in allenamento, quindi la capacità di spremerci, di dare effort. E di solito quando raggiungiamo una certa soglia di dolore subito ci stoppiamo, pensiamo di aver raggiunto una buona intensità, ma in realtà ci stiamo sempre, sempre sotto allenando. Secondo errore è il troppo volume. Questa è un po' una conseguenza del fatto che si è visto, grazie a molti studi che sono stati fatti, che il volume è una variabile principale per quanto riguarda l'adattamento ipertrofico. Il problema è che è una variabile principale posto che ci sia una buona qualità di lavoro, ossia se la mia qualità di lavoro, l'intensità che vado a dare è on point, è precisa, perfetta, è alta, allora logicamente più volume riesco a fare, ma volume dal quale riesco anche a recuperare, più avrò adattamenti ipertrofici. Ossia immaginiamo due soggetti identici, due gemelli che riescono a esprimere la stessa identità, la stessa intensità scusate, non hanno la stessa identità, riescono a esprimere la stessa intensità, ecco uno fa 10 serie allenanti di gambe e recupera molto bene, l'altro ne fa 12 e recupera molto bene. Ora nel secondo caso, quello che ne fa 12, avrà un adattamento ipertrofico maggiore, perché l'intensità è la stessa, il volume è maggiore e l'adattamento ipertrofico sarà maggiore, sempre posto che il recupero è perfetto. Ma se il primo allora, vedendo il secondo, ne fa 12, allora migliorerà il suo adattamento ipertrofico e il secondo dice no, voglio sempre far di meglio, arriva a farne 14, ma da queste 14 non riesce a recuperare, ecco non solo l'adattamento ipertrofico potrebbe essere analogo, quindi si sta facendo un po' più il culo, un due serie in più, però non recupera e quindi l'adattamento è lo stesso. Ma addirittura facendosi, impattando di più sul recupero, facendo due serie in più delle quali non riesce a recuperare, può essere che nel secondo caso l'adattamento ipertrofico sia inferiore. Quindi sostanzialmente è vero che più volume più ci sarà l'adattamento ipertrofico, ma le condizioni essenziali per questa formula, per questa nozione, sono che l'intensità sia elevata, quindi l'intensità sia sempre al limite e che il volume di cui stiamo parlando sia sempre recuperabile. Nella maggior parte dei casi vi dico che la maggior parte delle persone fa troppo volume in palestra, veramente veramente troppo. Ora terzo punto, la ricerca del carico, ossia le persone tendono a cercare di caricare troppo. Nel senso che vanno sempre molto spesso a ricercare i cariconi, perché cercano di progredire in palestra, cercano di sollevare tanto, di imitare quello che vedono magari su Instagram, sui social, eccetera, e va benissimo così. Lo vedremo tra un attimo. Però questa ricerca del carico è troppo elevata, nel senso che nella maggior parte dei casi io vedo che questi carichi che si vanno a ricercare non sono ben gestiti, ossia le persone caricano più di quanto dovrebbero. E questo porta a peccare su un altro punto, che è il quarto punto, ossia la paura del carico. Nel momento in cui si cerca di caricare tanto, si arriva a gestire e a utilizzare carichi, pardon, che non si gestiscono. Quindi io vado a caricare un tot sulla pressa, perché voglio ricercare il carico, perché voglio caricare tanto, però questo carico io realmente non lo gestisco. E la prima cosa che ho è che ho paura del carico. E questo mi comporta, uno, una poca attivazione specifica muscolare, ossia non attivo esattamente i distretti che devo attivare, ma vado a fare un movimento molto più sinergico, molto più sbagliato, e poi decittare banalmente, perché se io non ho confidenza a gestione del carico, magari in una pressa non scendo fino in fondo, ma mi fermo subito e faccio delle mezze ripetizioni, proprio perché sto caricando troppo, ma al contempo ho paura del carico. Invece no, dovreste innanzitutto settare al meglio la vostra forma, la vostra esecuzione, su questa base creare tanta intensità, quindi spremervi al massimo, su quest'ulteriore base andare ad aumentare gradualmente il carico, fin dove arrivate. Quando arrivate a carichi molto alti, dovete togliervi la paura del carico, ossia dovete ricercare un fallimento, perché tanto avrà sempre vinto, l'avrà sempre vinto a lui, avrà sempre vinto il carico, il bilanciere, la macchina, quello che vi pare. Vincerà a lui, non c'è storia. Ora, dipende, può vincere su 5 ripetizioni, dopo 6, dopo 7, non lo so, ma l'importante è che vinca nel momento in cui l'attivazione muscolare è massima, quindi nel bodybuilding in generale la regola aura è cercare di rendere il carico quanto più pesante possibile per il distretto target, quindi non devo cercare di renderlo leggero, con una sinergia di movimento, ma se sto cercando di coinvolgere i quad su una pressa, la devo cercare di rendere questo carico, questi 300, 400, 500 kg, quanto più pesanti possibili per i miei quadricipiti. E quindi un concetto che è molto contrario al powerlifting, per questo si dice che il bodybuilding è lo sport in cui vince chi carica meno, in un certo senso, un po' un paradosso, però rende bene il concetto. Ok, l'ultimo punto, qua di nuovo ci tengo a ringraziare Gabriele Andrulli che ha fatto delle riflessioni molto molto bene nell'ultimo podcast, riguarda la sua esperienza con Dorian Yates, la mentalità, il mindset. Le persone non si approcciano in palestra con la dovuta, se vogliamo, scusate il termine, nessuno si offenda, religiosità. Come dice Dorian, in palestra è come se stessi in the office oppure in the church, quindi in chiesa. In effetti, molte persone sono distratte, pensano ad altro, chiacchierano magari ogni tanto, che può andar bene, però vedete proprio la differenza di mentalità dell'atleta nel momento in cui entra in sala, ha visualizzato quello che è il suo allenamento, quindi sa che cosa sta per andare a fare, non deve improvvisare e decidere il momento, o quantomeno certe cose logicamente le decide al momento, proprio il discorso che abbiamo fatto sull'intimità che si deve creare. Però sa quello che deve fare, entra in palestra e cambia, entra nella bolla, in the zone, dicono. Quindi entrano in quella mentalità atletica in cui esiste soltanto lo sport in quel momento, esiste soltanto il gesto atletico, il risultato che si devono portare a casa e si concentrano al massimo su questo obiettivo. Quindi entrare, visualizzare ogni serie, concentrarsi e prepararsi e affrontarla solo nel momento in cui si è pronti per affrontarla. Quindi non senza stare con il cronometro, il recupero e andare a contare, eccetera. No, nel momento in cui sono pronto per affrontarla, la affronto, mi ci butto sotto e vado. Ecco, questo è un concetto, un dogma di base, affrontare ogni serie e fare in modo che ogni ripetizione conta. Deve essere la base di quello che fate, perché è lo sport atletico, è l'essenza stessa, è quello che creerà ipertrofia, più di qualsiasi altra cosa. Quindi questo concetto di mentalità viene un po' a mancare. Io per primo, non in tutte le sessioni riesco a essere così lucido, motivo per il quale è molto importante prendersi del tempo off, del tempo lontano, non soltanto in termini di giorni off nel corso della settimana, ma anche dei giorni di scarico anche passivo per resettarsi, calmarsi e riuscire a affrontare ogni sessione con la massima mentalità. Di nuovo, sentirsi, creare intimità. Se vado in palestra e sono scarico, non ho la giusta mentalità, il giusto mindset, torno a casa, mi riposo e ci tornerò il giorno dopo. Queste sono cose che devono essere fatte, devono essere sapute fare e dobbiamo riconoscerlo e cercare di lavorare. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, qualsiasi domanda sarò come sempre ben lieto di rispondere e con questo noi ci vediamo nel prossimo video.